Signore e signori buonasera, benvenuti a bordo del volo 10. Qualcuno su questo volo minaccia di uccidere un passeggero a meno che 150 milioni di dollari non gli vengano accreditati. Sembrava un volo tranquillo. Per la gente ha detto alla sicurezza. Abbiamo un passeggero morto e un pilota morto. Esiste un'emergenza? Che cosa aspettano? Andrà tutto bene! C'è un pilottamento in aero. Io ora abbandono l'aereo! Liam Neeson, Julian Moore. Non stop. Venerdì 21 e 20, Rai 2. Grazie.